Nel deserto di Sonora, in Arizona, ha sede la più grande raccolta di telescopi ottici del mondo. È l'Osservatorio Nazionale di Kitt Peak. Ci sono più di 50 astronomi da ogni parte del mondo che scrutano il cielo giorno e notte, sperando di conoscere l'universo e scoprire il nostro posto in esso. Da dove è venuta nel nuovo mondo questa mania di guardare il cielo? Questo bisogno di costruire osservatori immensi, come Kitt Peak? La risposta è dall'antico Centro America. Salve, sono Michael Gillen e nella prossima ora vi porterò nelle giungle dell'America centrale, patria degli antichi Maya, un popolo così affascinato dal cielo da fondare su di esso la vita sulla Terra. L'Osservatorio Nazionale di Kitt Peak. Non c'è niente di simile sotto il sole. Su questa cima si trovano due radiotelescopi e 24 telescopi ottici, incluso quello sul quale mi trovo adesso. Questo che sembra una gigantesca scultura moderna è il telescopio MacMath-Pierce, lungo 152 metri e inserito in parte dentro la montagna. Il telescopio, con il suo diametro di quasi un metro e mezzo, è puntato costantemente sul sole. Il MacMath-Pierce, nato nel 1962, è il telescopio solare più grande al mondo. Ci dà un'immagine del sole abbastanza grande per fare studi spettroscopici. È larga quasi un metro e il telescopio è lungo 150, altrimenti l'immagine arriverebbe troppo calda. L'apertura del telescopio, a 30 metri d'altezza dal suolo, cattura la luce e la riflette in uno specchio alla base del lungo tubo. Il resto del telescopio è nascosto e il suo specchio principale, che si trova a 90 metri sotto terra, rispedisce l'immagine lungo il tunnel in diverse camere di osservazione, usando un terzo specchio. Il MacMath-Pierce ci ha permesso di individuare la composizione chimica del sole, di eseguire studi innovativi sulle proprietà magnetiche delle macchie solari, ed è stato usato anche per osservare i pianeti. Ma non lasciamoci incantare dalle conquiste della modernità, perché ancora più impressionante, considerando la sua antichità, è... il tempio di Kukulkan. Kukulkan era un dio dei Maya e veniva raffigurato come un serpente piumato. Ma questo non è solo un sito religioso. Migliaia di anni fa, questo era il MacMath-Pierce di quel tempo, un osservatorio creato nell'antichità per studiare il movimento del sole. Il tempio di Kukulkan è nel cuore di Cicenizza, la famosa città Maya. Al suo culmine, la civiltà Maya si estendeva da Cicenizza, qui nella penisola dello Yucatán, in Messico, fino agli alti piani del Guatemala. Prosperarono dal primo secolo avanti Cristo al nono secolo dopo Cristo, sebbene gli archeologi, scavando indietro nel passato con le piramidi, abbiano trovato tracce di usanze Maya presso gli antichi Olmechi. Quindi nel nostro continente abbiamo una cultura continua, avanzata, progressiva, durata più di 3.000 anni. Avevano un sistema di scrittura sofisticato, avevano un calendario accurato, avevano osservatori per scrutare il cielo. Ed è ovvio paragonare la nostra astronomia alla loro. Ci interessa sapere perché fossero così attirati dalle stelle. In realtà, l'astronomia era legata alla loro religione. Il sole, la luna e i pianeti erano i loro dei e hanno influito su ogni aspetto della vita, come sulla forma e l'orientamento degli edifici di Cicenizza. In nessun altro luogo l'ossessione religiosa dei Maya verso l'astronomia e il sole è evidente come nel tempio di Kukulkan. Con un territorio così pianeggiante, il solo modo per ottenere una visione chiara dell'orizzonte era costruire il tempio molto alto, realizzando di fatto una montagna. In senso religioso, anche l'orizzonte aveva la sua importanza come punto di unione tra cielo e terra, come è narrato nel Popul Vuh, la fiaba Maya sulla creazione. È il punto di contatto fra gli dèi del mondo sotterraneo, che abitano i nove strati sottoterra, e gli dèi del firmamento, che consta di 13 strati. La linea di confine è la superficie terrestre, dove sono i mortali, che rendono onore agli dèi che abitano sopra e sotto di loro. Da quassù, i Maya osservavano il sorgere e il tramontare del sole e ogni volta prendevano nota di qualcosa di molto interessante, qualcosa di cui oggi non ci accorgiamo neanche. Il sole tramonta esattamente a ovest, soltanto nel primo giorno di primavera ed autunno. Nel resto dell'anno, tramonta più a nord o più a sud. Naturalmente è un moto apparente, dato da un'illusione geocentrica. In realtà il sole non ruota intorno alla Terra. È la Terra a ruotare intorno al sole. Il cammino annuale del sole da nord a sud lungo l'orizzonte, che tanto affascinava i Maya, determinò sia la forma che l'orientamento del Tempio del Dio a forma di serpente piumato. Kukulkan Lo stesso tempio attira migliaia di turisti ogni anno. In due giorni particolari, gli equinozi, ovvero il primo giorno di primavera e il primo giorno d'autunno, proprio quando tramonta il sole, accade qualcosa di suggestivo. Ora, per mostrarvi cosa succede, e vi prometto che è qualcosa di speciale, ho chiesto a Doug e a Ryan di costruire un Tempio di Kukulkan tutto per me. Ovviamente ne devono realizzare una versione in scala ridotta, ma sarà accurata in ogni suo dettaglio. Per esempio, i 91 gradini per ogni scalinata e la scultura della testa a forma di serpente di Kukulkan messa esattamente dove deve essere. È molto importante e tra un minuto saprete perché. Ehi, vi si è ristretto il Tempio? È fantastico! Grazie. E perfino la pittura. Giurerei che questa è pietra, ma so che non lo è. 91 gradini? 91 gradini. Non perderò tempo a contarli, mi fido. Li ha fatti Ryan. Davvero? È stato divertente? Schiuma, colla e pittura, Michael. Il mio compito in classe è di arti e mestieri. Hai anche messo le teste di Kukulkan esattamente al loro posto. Piccolo dettaglio, ma importante. Un ottimo lavoro. Ora, sgombrate il tavolo perché sta arrivando il sole. È ora di mettere alla prova il capolavoro. Allora, noi prendiamo la crema solare e ci abbronziamo un po'. Divertiti, Michael. Va bene, lo farò. Ottimo lavoro, ragazzi. Davvero. Grazie. Guardate il dio del sole. Bene, questa lampada sarà il mio sole. E faremo finta che è un giorno di equinozio, quello di primavera o quello d'autunno. E quello che voglio da voi è che facciate attenzione a quello che succede lungo i lati di questa scalinata principale, rivolta a nord. Ricordate, questo è il nord. Queste le teste di Kukulkan. I lati sono rivolti a nord, sud, ovest e est. Ora, facciamo finta che è un giorno di equinozio ed è mezzogiorno. Tutto il tempio è sommerso di luce. Finora niente altro di interessante. Ora, guardate cosa succede quando il sole comincia ad abbassarsi nel cielo e fate ancora attenzione al lato di quella scalinata principale. Vedete cosa succede mentre il sole si abbassa? Si ha l'immagine del corpo di un serpente. E la cosa incredibile è che si unisce alla testa di Kukulkan, componendo in questo modo l'intera figura del serpente piumato. E ora, mentre il sole si abbassa di più, guardate cosa succede. Il corpo del serpente sembra salire verso l'alto. Sembra scivolare lentamente verso l'alto, in alto, in direzione del cielo. E quando il sole tramonta completamente, Kukulkan scivola verso il cielo, la sua dimora. La cosa eccezionale, secondo me, è pensare al tipo di progetto che è stato adottato. L'orientamento dell'edificio doveva essere esatto, come anche le dimensioni dei gradini, in modo che quando il sole li avesse colpiti, si sarebbe creata l'illusione e tutto ciò doveva essere rapportato all'equinozio. Perché, guardate, se sposto il sole un po' più a nord o a sud, cioè dove il sole tramonta ogni giorno che non sia di equinozio, l'illusione svanisce. Il serpente è visibile solo quando il sole tramonta esattamente ad ovest e succede solo due volte l'anno, nei giorni di equinozio. Niente di tutto questo può essere accidentale e mi affascina il fatto che i Maya potessero e volessero riuscire a farlo. È un'incredibile combinazione di arte e scienza. Adesso sapete perché, due volte l'anno, enormi folle di persone arrivano a Cicenizza per guardare l'antica piramide, costruita da i Maya come segno della loro adorazione per Kukulkan e come prova delle loro conoscenze di astronomia. I Maya hanno costruito intenzionalmente il monumento in quel modo o lo hanno scoperto solo dopo averlo portato a termine? È stata una cosa voluta o una coincidenza? Una volta credevo all'ultima di queste possibilità, ma più osservo il fenomeno, più credo alla prima, e cioè che fu costruito così di proposito. Intanto, la presenza nel tempio di così tanti numeri relativi al calendario indica che si basa davvero su degli studi di astronomia e spicca rispetto agli altri edifici. Solo facendolo sporgere in quel modo si può vedere il serpente durante l'equinozio. Per i Maya questo tempio fu un punto di partenza. Il genio astronomico e architettonico che lo ha concepito permise loro molto più che studiare semplicemente il sole. Qui all'Osservatorio Nazionale di Kitt Peek si guarda avanti. Letteralmente. Telescopi di ogni descrizione, 26 in tutto, sono puntati in alto per escrutare galassie, stelle, pianeti, lune, asteroidi, comete. Qualunque cosa. A Kitt Peek l'attività astronomica è intensa di notte e di giorno. Di notte osserviamo le galassie e le stelle vicine, cerchiamo altri pianeti, studiamo le comete. Di giorno studiamo le macchie solari e i loro campi magnetici. Ma molto prima dei moderni telescopi fu creato questo osservatorio. È il Caracol. In tutta la città di Cicenizza è il mio edificio preferito. Mi piace la forma e sono sbalordito da quanto somiglia a un osservatorio moderno. Si ritiene che nel nono secolo i Maya usassero questa struttura per osservare, forse per adorare, il pianeta Venere. Venere era importante per i Maya. Era considerato il giamello del sole e il dio della guerra. Ma soltanto da poco si è scoperto che El Caracol avesse a che fare con Venere. In realtà, per lungo tempo, El Caracol è stato un mistero. Anzi, un triplice mistero. Mistero numero uno I lati della base di El Caracol non guardano i quattro punti cardinali nord, sud, est e ovest. Sono invece ruotati di 27 gradi e mezzo. Come mai? Mistero numero due El Caracol è circolare. L'edificio circolare è più grande di tutta Cicenizza. Perché? Infine, mistero numero tre Gli angoli della base superiore di El Caracol non sono retti, ma un po' sbilenchi. Come si spiega? Sir Eric Thompson, l'emminente archeologo dei Maya, un'autorità per l'archeologia Maya dagli anni 30 agli anni 50, una volta ha detto che ogni tanto anche le città più belle presentano un edificio che fa rivoltare lo stomaco. E questo è il caso di El Caracol. Creato da architetti senza alcun gusto, somiglia a una torta noziale collocata male nella scatola che serviva a trasportarla. Niente di più sbagliato, perché, come sto per farvi vedere, c'è un piano preciso dietro l'apparente illogicità di El Caracol. Cominciamo dal mistero numero uno. Quella strana rotazione di 27 gradi e mezzo ha uno scopo importante. Grazie ad essa, El Caracol guarda esattamente il punto dell'orizzonte dove tramonta Venere, la sera della sua escursione massima a nord. Un evento che si verifica solo una volta ogni otto anni. Quanto al mistero numero due, perché El Caracol sia circolare, ebbene, un edificio tondo simula l'orizzonte, quindi la struttura dava ai Maya una visione a 360 gradi del cielo. E vedete quelle finestre situate in posizione strategica? I Maya le usavano come aperture dalle quali individuare l'esatto cammino del pianeta Venere. Non è un risultato da poco, perché il moto celeste di Venere è complicato. Per mesi e mesi è una stella del mattino, che sorge da est come il sole. Poi scompare, per ricomparire solo dopo qualche settimana come stella della sera, che tramonta ad ovest come il sole. Tanto basta per far venire mal di testa a molti di noi, ma non hai Maya. Dopo anni e anni di attenta osservazione a occhio nudo, riuscirono a comprendere questo ciclo. Infine, c'è il mistero numero tre. Gli angoli irregolari della piattaforma superiore. Ricordate? Dato che molti edifici Maya sono obliqui e molti spazi di preghiera sono semplici quadrilateri e non quadrati perfetti o rettangoli, si pensa che i Maya non fossero capaci di costruire un angolo retto. Ma io credo che quelle irregolarità fossero intenzionali. Un angolo della piattaforma punta esattamente dove nasce il sole il primo giorno d'estate. L'altra estremità, al punto dove il sole tramonta il primo giorno d'inverno. Questo dimostra la teoria che la costruzione di El Caracol proviene da molti anni di osservazione del cielo dei Maya. Nello Yucatan l'orizzonte è piatto, è perfettamente piatto, come il sud della Florida. Tutta questa distesa di calcare senza fiumi, soltanto foibe, e se si guarda intorno non ci sono ostacoli naturali all'orizzonte. Ritengo quindi che una spiegazione per la simmetria del Caracol sia che l'edificio è storto per indicare un punto, dato che l'orizzonte è privo di punti di riferimento naturali. Per me la domanda fondamentale è come abbiano fatto i Maya a scoprire in che modo orientare i loro osservatori giganti come El Caracol e il Tempio di Kukulkan per ottenere risultati astronomici così importanti. E come abbiano fatto? Senza l'aiuto di un telescopio o qualunque altro strumento di ricerca? Francamente, nessuno lo sa. Ma ecco una teoria. Adesso farò finta di essere un ingegnere Maya cui è stato ordinato di costruire un monumento a base rettangolare i cui angoli puntino sugli equinozi. Tutto ciò che mi serve, secondo questa teoria, è una giornata di sole come questa, dei paletti, una corda e uno spazio aperto. Bene, ho già piantato un paletto più o meno al centro dello spiazzo. Adesso prenderò la mia corda, la fisserò a quel paletto e poi la utilizzerò come se fosse un enorme compasso. La terrò con la mano sinistra facendo attenzione che sia ben tesa. Poi disegnerò un cerchio, così, sempre assicurandomi che la corda che reggo con la mano sinistra sia ben tesa. Bene, ecco fatto. Ora devo avere pazienza perché per il prossimo anno, per i prossimi 12 mesi, dovrò segnare quattro giorni molto speciali. Numero 1 L'alba del primo giorno d'estate Numero 2 Il tramonto del primo giorno d'estate Numero 3 L'alba del primo giorno d'inverno Numero 4 Il tramonto del primo giorno d'inverno Ora traccio due linee che collegano tra loro albe e tramonti. Poi disegno due angoli retti, così, che saranno gli angoli di nord-est e sud-ovest del tempio. Ricordate, anche se sono un antico maia, sono in grado di tracciare un angolo retto. Ecco com'è. Esistono molti modi per tracciare un angolo retto. Ad esempio, si può usare il cerchio. Si prende una corda, paletti, e si traccia un cerchio di qualunque misura e si tira una linea da un'estremità del diametro a un punto qualsiasi della circonferenza e da lì all'altra estremità. E otteniamo un angolo retto. Siamo sicuri, quindi, di aver costruito un angolo retto perché cade sulla circonferenza e i suoi lati intersecano le due estremità del diametro. E adesso lo dimostreremo con l'aiuto del nostro quadrato colorato. Mettiamolo giù. Accostiamolo all'angolo in questo modo. Ecco fatto. Questo è un angolo retto. Quindi chi ha detto che i maia non potessero fare un angolo retto? Visto? Semplicemente prolungando i lati dei due miei angoli retti, creo automaticamente gli altri due angoli del mio tempio. Ecco fatto. Ora non devo far altro che trovare qualche migliaio di religiosi entusiasti che mi aiutino a disporre pietre su pietre per circa un anno, finché non avrò il mio tempio perfettamente orientato. Sia chiaro, non voglio dire che i maia abbiano proceduto esattamente in questo modo. Ho solo fatto vedere uno dei metodi che possono aver utilizzato. Spero soltanto che il mio piccolo esperimento demolisca l'eccentrica teoria secondo cui, in qualche modo, i maia abbiano ricevuto aiuto da parte degli alieni per costruire queste magnifiche strutture. Dalle conoscenze dei maia sui cicli astronomici dipendeva quasi ogni aspetto della loro vita. Quando seminare, quando raccogliere, perfino quando dichiarare guerra. Più di mille anni fa, i maia combattevano la loro versione personale di guerre stellari. Per la mia formazione ho studiato anche astronomia teoretica. È una materia complessa, eppure è incredibile la quantità di intrattenimento ispirata dai nostri studi sull'universo. Fumetti, show televisivi, film, giochi elettronici. L'industria del divertimento offre avventure spaziali di ogni tipo. Beh, indovinate un po', 2000 anni fa, qui nella giungla del centro America, anche presso i maia, il settore del divertimento era basato sull'astronomia. Prendete il cortile dove mi trovo ora. I maia lo usavano per un gioco con il pallone, brutale ma popolare, chiamato Pock Ta Pock. Ci risulta che i giochi con la palla fossero molti e che si siano evoluti nel tempo. L'analogia può non essere perfetta, ma questo gioco si è trasformato da una specie di calcio a una specie di pallacanestro. Il campo da gioco di Cicinizza è il più grande del suo genere in tutta l'America centrale. È lungo quasi 100 metri e i suoi anelli sono situati a più di 8 metri di altezza sulle pareti che lo delimitano. Regole del gioco I giocatori dovevano mantenere il pallone in aria usando solo i fianchi, il sedere, i gomiti e le ginocchia. Scopo del gioco era far passare il pallone attraverso uno degli anelli. A quanto pare era talmente difficile riuscirci che un singolo punto poneva fine al gioco. Questi cortili da gioco nel tempo diventarono luoghi immensi che potevano contenere molte centinaia di spettatori, a volte migliaia. Così la natura del gioco, almeno in alcune zone, divenne molto più di tipo ricreativo. Dai resoconti aztechi sul gioco del pallone sappiamo che la gente scommetteva. Scommetteva anche i propri vestiti e si beveva molto durante le partite. Era l'evento più importante che avesse luogo nel giorno di mercato. Come ogni altro aspetto della cultura maya, il gioco del pallone aveva implicazioni astronomiche e cosmologiche. Il cortile rappresentava l'universo e il gioco stesso rappresentava la lotta cosmica tra il bene e il male. Il pallone rappresentava un corpo celeste. Forse il sole o la luna figure sempre in movimento. Si apprende anche dal Popol Vuh, un'importante fiaba maya del XVII secolo, che due eroi gemelli, figure fondamentali della mitologia maya, giocarono a pallone contro gli dèi del mondo sotterraneo per la sovranità sulla terra, per cui avrebbe trionfato la morte o la vita. I gemelli, dopo un epilogo vittorioso di questi giochi e dopo una serie di altre prove, divennero il sole e la luna. Gli atleti morivano per giocare a pallone, intendo dire letteralmente. È stato provato che di solito il capitano della squadra sconfitta veniva decapitato. È la dimostrazione di un'obbedienza estrema alle leggi cosmologiche da parte dei giocatori. Alcuni studiosi teorizzano che il corpo privo di testa del capitano della squadra sconfitta riposasse poi nei sacri cenote, buche calcare nel terreno terminanti in uno specchio d'acqua, dove si pensava abitassero gli dèi. Negli anni venti, l'archeologo Edward Thompson esplorò questo cenote a Cicenizza e in effetti trovò delle ossa umane. Trovò molte altre cose, fra cui una sorpresa. Delle palle di gomma. Erano vecchie più di mille anni, ma incredibilmente ben conservate. Questa è la riproduzione fedele di un pallone da poc-ta-poc. La prima cosa che mi disorienta è il suo peso, intorno ai 4 chili, il che significa che esserne colpiti durante il gioco non è cosa da poco. Se presi in un punto delicato si può anche morire. Ma la cosa più incredibile del pallone da poc-ta-poc è questa. Rimbalza! La gomma naturale non rimbalza, lo fa solo attraverso un processo chiamato vulcanizzazione, scoperto nel XIX secolo. Eppure i Maya giocavano a poc-ta-poc 3.000 anni fa. Per quanto ne sappiamo, i Maya furono il primo popolo a scoprire e a utilizzare la gomma nella sua forma grezza. Eccola! È la secrezione della corteccia dell'albero di Castiglia Elastica e ha la consistenza di una crema. La cosa affascinante è che i Maya trovarono un milione di impieghi possibili per questo succo che oggi chiamiamo latex. Ad esempio, ci fabbricavano l'adesivo con il quale ho incollato questa tazza al piattino ed ha una buona presa. Può cedere un po', ma è forte. C'è un altro uso molto intelligente. Prendevano la gomma e la spalmavano su un pezzo di stoffa, così. Poi immagino che stendessero la gomma con una specie di spazzola in modo che il pezzo di stoffa fosse rivestito uniformemente. In seguito, lo lasciavano riposare al sole finché non si asciugava completamente e il risultato era... Guardate! È il tessuto resistente all'acqua col quale si possono realizzare abiti anti-pioggia. Ora ho qui un bicchiere d'acqua per mostrarvi cosa intendo. Vedete? L'acqua non passa. E ora ha un'altra applicazione, una delle mie preferite. Si tratta di prendere il succo della pianta e metterlo in un contenitore come questo. Così dovrebbe bastare. Quello che i Maya facevano era mettere i piedi nel contenitore. Così, immergevano letteralmente i piedi nella gomma. Con questo procedimento ottenevano una protezione impermeabile per le piante dei piedi. Si può dire che fosse un prototipo delle moderne scarpe di gomma. Ma l'applicazione più sorprendente dei Maya con la gomma è la realizzazione del pallone da poc-ta-poc. Dopo aver estratto il succo o latex dall'albero di castiglia elastica, i Maya aggiungevano un ingrediente segreto che davvero faceva la differenza. Il succo di per sé era viscoso e asciugando diventava secco e friabile. Quello che i Maya scoprirono era che aggiungendo il succo della pianta di convolvolo la gomma diventava duttile ed elastica. Affascinato da questo antico prodigio il regista Roberto Roshin ha fatto analizzare chimicamente i palloni di gomma dei Maya e ha scoperto che l'aggiunta del succo di convolvolo in realtà imitava il moderno processo di vulcanizzazione. Un metodo che prevede l'addizione di zolfo e di calore all'atex per aumentarne grandemente l'elasticità. La vulcanizzazione è stata inventata da Charles Goodyear nel 1839 circa 3500 anni dopo che i Maya avevano ottenuto lo stesso risultato. Spesso si parla superficialmente delle antiche civiltà come se fossero primitive eppure i Maya non lo erano affatto. Pensateci anche solo per fare un gioco riuscivano a imitare la vulcanizzazione della gomma 3000 anni prima dell'Occidente industrializzato. I Maya si sono dimostrati abili con il calendario come lo erano con l'astronomia. Il fatto che il tempio di Kukulkan abbia 365 gradini non è una coincidenza. I calendari sono compilati in base a ciò che gli astronomi osservano nel cielo. un anno si basa su quanto tempo impiega la Terra a girare intorno al sole un mese su quanto impiega la Luna a girare intorno alla Terra un giorno su quanto impiega la Terra a ruotare sul proprio asse. A volte ho bisogno di staccare la spina per rilassarmi ma anche allora la mia vita è regolata dai calendari. Sapete di cosa parlo? Il calendario da tavolo in ufficio il calendario da viaggio l'orologio col calendario sono portato a pensare che tutto questo sia sintomo di stress nella nostra società moderna in realtà presso i Maya 2000 anni fa le cose non andavano molto diversamente. 88 89 90 91 In effetti si può affermare che i Maya fossero dei maniaci del calendario prendete ad esempio questo luogo il tempio di Kukulkan su ciascuno dei suoi quattro lati ci sono 91 gradini un po' di aritmetica 91 per 4 fa 364 aggiungete quest'ultimo livello e avrete 365 il numero dei giorni in un anno solare in altre parole questo tempio tra le altre cose è un gigantesco calendario e questo è solo l'inizio per dirla tutta i Maya erano guidati da qualcosa come 17 diversi calendari per la maggior parte basati su vari cicli astronomici ad esempio un ciclo lunare di 28 giorni un ciclo solare di 365 giorni o un ciclo di venere di 584 giorni il primo di questi calendari è datato 400 avanti Cristo per i Maya questi cicli erano una questione di vita o di morte gli ingranaggi su cui si imperniava la loro civiltà sociale politica e religiosa sono venuto a Ketumal nel Messico del Sud nel Museo della Cultura Maya a vedere questo pannello rappresenta diversi calendari Maya in uno solo cominciamo da questo che si chiamava Tzolkhin era composto da 20 periodi ciascuno dei quali era fatto di 13 giorni così una data Tzolkhin era formata da un periodo più un giorno ora la cosa interessante è che fosse un calendario astrologico ogni giorno aveva dei tratti associati ad esso come pazienza generosità intelligenza e si pensava che un bambino nato un dato giorno ereditasse quella caratteristica i 260 giorni del calendario Tzolkhin sembrano basarsi su un ciclo che non è astronomico di per sé ma celeste in realtà si può dire che rappresenta una strana combinazione tra cielo e terra a 260 si arriva moltiplicando 20 e 13 due numeri importanti per i Maya il 20 è la base del sistema di calcolo dei Maya e deriva senza dubbio dal contare con le dita di mani e piedi 13 è il numero dei livelli celesti quindi se si conta utilizzando le parti del corpo e le parti del cielo esse si fondono in questo ciclo di 260 giorni 13 numeri accanto a 20 nomi di giorni questa è la piccola porzione di una ruota molto grande che rappresenta il calendario AAB era un calendario agricolo molto simile al nostro calendario di oggi durava 365 giorni era basato sull'anno solare e i contadini Maya lo utilizzavano per pianificare gli appuntamenti stagionali come arare la terra seminare o raccogliere ma a seguire due calendari separati era complicato così i Maya decisero di sposare di combinare i vari meccanismi per creare un super calendario che chiamarono il calendario a cerchio ora questo ci porta necessariamente alla domanda successiva supponiamo di trovarci nel primo giorno del calendario a cerchio cioè il primo giorno dello Zolkini sincronizzato col primo giorno della AAB quanto bisogna aspettare prima che compia un giro completo? beh la risposta è un totale di 52 anni tanto durava il calendario a cerchio per di più mentre noi oggi festeggiamo la fine di un ciclo la fine del calendario i Maya decisamente non lo facevano era invece un periodo di grande ansietà le nostre offerte agli dei sono sufficienti il debito che abbiamo pagato loro basta per continuare la nostra vita sulla terra i riti che celebriamo in loro onore perché sono morti per noi e noi facciamo sacrifici per ricordare ciò che hanno fatto sono sufficienti? lo potevano sapere solo quando le Pleiadi erano in cielo a mezzanotte dicono le cronache perché quello era il segno per la popolazione in trepidante attesa che l'universo non sarebbe finito infine per evitare l'insopportabile agonia che arrivava alla fine del ciclo dei 52 anni i Maya inventarono un calendario che aveva un'ampiezza anche maggiore si chiamava ed è naturale il lungo computo i Maya misero tutto quello che sapevano nel lungo computo è basato sul numero 13 sul 20 e sul 360 che è il numero di gradi in un cerchio perfetto come l'orizzonte un lungo computo completo equivale a siete pronti? 13 Baktun un Baktun vale 20 volte 20 Tun e un Tun sono 360 giorni facendo i calcoli si ottengono 5125,36 anni perciò il lungo computo offriva ai Maya molto più tempo del calendario a cerchio nel calendario che usiamo oggi il calendario gregoriano l'anno zero o per così dire l'inizio del tempo corrisponde alla nascita di Cristo anche il calendario a lungo computo dei Maya ha un anno zero e ci si chiede se anche questo corrisponde a qualche importante evento della storia la risposta è nessuno lo sa e l'ultimo giorno del calendario a lungo computo il giorno 13 00 00 anche questo è avvolto nel mito e nel mistero il 21 dicembre 2012 il calendario Maya toccherà un importante punto di riferimento la sua fine le possibilità di cosa significhi questa fine per alcuni sono un vero oggetto di discussione significa semplicemente la fine del calendario oppure significa la fine dei giorni o addirittura del genere umano il calendario si sta avvicinando alla fine non è necessariamente un ciclo che predice la fine del mondo credo anzi che oggi si veda la fine del mondo un po' dappertutto la nostra cultura cerca sempre di scovare calamità tempo fa a una conferenza ho parlato con un sacerdote Maya e conoscendo la sua provata competenza gli ho chiesto cosa succederà fra cinque anni quando il grande strumento Maya per il computo del tempo e del destino arriverà alla fine lui ha risposto che la sua speranza è che arrivi un periodo di pace per l'intera umanità e mi chiedo se anche gli sciamani Maya del periodo classico non avessero aspettative simili piuttosto che pensieri catastrofici sulla fine del mondo soprannaturale o no quello che mi colpisce è che gli antichi calendari Maya sono così meravigliosamente complicati da far scuotere anche dopo cinquemila anni le nostre teste evolute e alzare i nostri occhi evoluti per sapere se i Maya abbiano visto nel cielo qualcosa che noi non abbiamo visto forse un giorno lo sapremo i Maya dimostrarono di essere avanti di millenni rispetto al loro tempo quando si trattava di tempo nessuno nel mondo antico più dei Maya era ossessionato dal passare del tempo e dai cicli astronomici che usavano per misurarlo il loro antico calendario solare era più accurato di quello che usiamo noi oggi oggi i nostri studi del cielo prendono strade discordanti da un lato ci sono studiosi come questi dell'osservatorio nazionale di Kitt Peak il loro è il linguaggio dell'astronomia della gravità della singolarità e delle interazioni fra i corpi celesti all'altro estremo ci sono persone come queste e ce ne sono dappertutto il loro è il linguaggio dell'astrologia dei segni zodiacali e dei cieli di nascita l'astrologia che è una vera scienza si basa sulla credenza che la posizione dei pianeti al momento della nascita sia correlata alla condizione fisica emotiva e mentale di un individuo per esempio a chi è dell'acquario piace esplorare il mondo ai gemelli piace viaggiare ma si può essere molto più specifici studiando ogni grade ogni pianeta che con la sua influenza determina il carattere di una persona le due categorie di studiosi non potrebbero essere più diverse è come se abitassero su due pianeti a parte eppure stranamente entrambe condividono l'irresistibile attrazione verso il cosmo ciò che trovo molto interessante è che la stessa cosa succedeva ai Maya più di mille anni fa essi toccavano i due estremi come astronomi registravano le luci del cielo con straordinaria accuratezza come astrologi erano profondamente convinti che quelle luci potessero predire il futuro e se solo loro studiavano quelle luci solo loro potevano predire il futuro e ancora meglio potevano controllarlo questo appassionato orientamento astronomico e astrologico è evidente nel codice di Dresda scritto all'inizio del tredicesimo secolo è il più rilevante dei quattro testi mai aggiunti fino a noi contiene tavole estremamente accurate delle eclissi di luna e del movimento di venere contiene anche calendari per la semina e una lista di 20 anni di profezie in altre parole era una specie di combinazione tra un almanacco per agricoltori e un oroscopo da un punto di vista scientifico la cosa interessante del codice è che contiene molte informazioni sul cosmo informazioni precise ad esempio cinque pagine del codice di Dresda si riferiscono al ciclo di venere è un calendario più che preciso e che ha determinato l'orientamento di alcuni edifici maia ci sono anche tavole relative al ciclo di Marte in quali periodi è retrogrado in quali periodi è in movimento e in quali altri è stazionario gli agricoltori maia usavano il codice di Dresda per avere uno schema dei movimenti del sole in ogni stagione per cui sapevano quale attività svolgere nei campi anche da questo punto di vista i maia disponevano di uno strumento scientifico dopo tutto ancora oggi la vita degli agricoltori è governata dalle stagioni la stessa dicotomia si ritrova anche nel legame dei maia con la luna e i pianeti come astronomi i maia potevano predire future eglissi di luna e con estrema precisione questa è una tavola delle eclissi una fantastica tavola di otto pagine che elenca le eclissi in un ciclo che si ripete che possiamo usare ancora oggi noi stessi possiamo predire le eclissi usando questa tavola qui c'è un eclisse poi qui ci sono questi intervalli sei lune 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 cinque lune e qui c'è un'altra eclisse e si può vedere il drago con le mandibole spalancate che mangia il simbolo del sole d'altra parte però i maia ritenevano che le eclissi fossero portatrici di sventura una superstizione che i moderni studiosi respingono stessa precisione col pianeta venere a giudicare dai dati contenuti nel codice di dresda e dall'esatta costruzione di el caracol sappiamo che i maia potevano predire l'esatta posizione di venere con più di cento anni di anticipo e con il 99,9% di accuratezza è fenomenale considerando che tutto veniva osservato a occhio nudo conoscevano molto bene il ciclo di venere di 584 giorni che si adatta come un meccanismo perfetto all'anno solare di 365 giorni con un rapporto di 5 a 8 5 cicli di venere sono uguali a 8 anni ogni 8 anni venere torna nella stessa posizione nel cielo poi oscilla avanti e indietro sull'orizzonte per ritornare allo stesso posto dopo 8 anni i maia lo sapevano bene perché la tavola di venere ci dice che se il pianeta facesse la sua prima comparsa questa notte tornerebbe al suo posto esattamente tra 8 anni e tuttavia i maia credevano che venere influenzasse le condizioni del tempo sulla terra un'idea scartata dai moderni scienziati chiunque pensi che le guerre stellari siano cominciate negli anni 80 dovrebbe rimettere indietro l'orologio di più di mille anni perché i maia già facevano le loro guerre stellari guidati dal pianeta venere alcuni studi molto interessanti condotti principalmente sui resti scultore e tra le rovine di Bonenpock indicano che ci furono eventi bellici descritti dai geroglifici e dalle incisioni collegati alla comparsa o meno del pianeta venere dopo tutto ciò che è stato detto la mia impressione sui maia resta la seguente secoli fa quando alzavano gli occhi al cielo come facciamo anche noi oggi non potevano fare altro che commuoversi profondamente per la grandezza la maestà e il mistero del creato a tal punto che per loro le spiegazioni naturali non erano sufficienti sentivano il bisogno di risposte più elevate più intuitive più soprannaturali l'ironia però sta nel fatto che nonostante avessero cognizioni astronomiche tali da predire con esattezza la posizione del sole della luna e dei pianeti e malgrado tutti i loro studi astrologici sugli eventi futuri i maia non furono in grado di prevedere il loro declino nessuno sa perché ma nel nono secolo improvvisamente i maia abbandonarono tutte le loro grandi città come Tikal Palenque e Copan tutto avvenne in meno di 80 anni così l'evento è chiamato il grande collasso in altre parole molto prima del 21 dicembre 2012 la data in cui ritenevano che il tempo dovesse finire il calendario si è fermato per i maia dopo secoli di prosperità questo è ciò che rimane della loro grande civiltà incantata sono Michael Gillen e vi do appuntamento alla prossima puntata alla prossima puntata e vi do appuntamento qui si è fermato